Incidente questa mattina intorno alle ore 9 e 15 sulla strada statale 18 cilentana. Quattro le autovetture e un furgone coinvolte nel sinistro stradale ad avere la peggio una punto nera guidata da un giovane residente ad Agropoli ma originario di bello sguardo e un furgone con a bordo un uomo. Entrambi trasportati all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per politrauma. Coinvolto nell'incidente stradale anche il parroco di Ascea Don Peppino ma fortunatamente per lui nulla di grave. Sul posto è mediato l'intervento dei sanitari del 118 di Agropoli che sono giunti sul posto con una unità rianimativa e una MSA con il supporto delle ambulanze di tipo B di Capaccio e di Vallo della Lucania. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del locale di staccamento e i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso.